Siamo con Lucia Crisanti, capitano di Volley Academy Sassuolo, Canovi Coperture. Questa sera la partita di fine carriera, di fine stagione, di fine tutto, anche se ovviamente il tributo che ti hanno riservato i tuoi tifosi è stato qualcosa di emozionante. Sì, molto emozionante, infatti voglio ringraziare tutti i tifosi che la società è in primis per questa festa che mi hanno fatto. Mi sono veramente appozionata, sono bellissime, grazie veramente. Quando sei arrivata qui due anni fa, dopo tutte le tue esperienze, sempre tra uno e due, pensavi di concludere, tra l'altro, anche la tua carriera con una Coppa Italia? No, sapevo che avrei concluso qua la mia carriera, questo sì, di chiuderla in questa maniera. Lo sogniamo e basta. Un'ultima cosa, non è che ci sarà qualche ripensamento stanotte, domani? No, questa volta no. Allora, io comunque ti faccio l'imbocca al lupo per la tua vita, per tutto. Credo però che comunque su qualche campo ci vedremo, forse... L'aspettatrice sicuramente. L'aspettatrice, comunque non credo che abbandonerai questo mondo del tutto. Nella mia vita per più di vent'anni, quindi sarebbe troppo estraneo, quindi sicuramente in qualche modo ci vedremo ancora. Bene, grazie e in bocca al lupo e buona fortuna per tutti. Grazie, grazie.